ma guardi io soprattutto con questa con questa nuova ma la nuova italia ma la nuova europa il nuovo mondo multiraziale multietnico onestamente lo trovo di una stupidità incredibile quello che sta succedendo cioè dei burassisti nei confronti di altre persone solo perché hanno un colore delle pelle diverse che magari sono gli stessi che sono magari fidanzati delle tue figlie o viceversa c'è anche anche a scuola vedo molti bambini adesso stanno con altre un'altra religione altre culture quindi trovo di uno secondo me è sintomo di mancanza di intelligenza cioè non lo trovo neanche razzista perché non penso che mi sembrano delle persone degli imbecilli cioè onestamente quelli che fanno queste cose cioè non è questione proprio di razzismo proprio di intelligenza cioè carenza proprio di intelligenza non ha ragione di essere con 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 la società che si va strutturando un fatto un fatto del genere è anche il fatto di dover reprimere fermare una partita per degli imbecilli lo trovo stupido però ecco però non vorrei neanche che fosse sto fatto sono fobia oppure razzismo sicuramente va rimarcato va tenuto sotto controllo però secondo me fa parte dell'intelligenza delle persone